Iniziamo il video dicendo due disclaimer molto rapidi a caso se sentite dei rumori di sottofondo è il condizionatore che sta andando che mi sta letteralmente salvando la vita Io ho appena finito di farmi la doccia infatti ho ancora anche i capelli bagnati e vediamo alla fine del video se i miei capelli si saranno asciugati o se io mi sarò sciolto Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Jason e oggi siamo in un nuovo video Oggi ragazzi perché sono qui in questo video allora innanzitutto sono qui per darvi un po' di novità che non a tutti ovviamente magari potrebbero interessare però comunque che mi sento quasi in dovere di dover dare perché saranno delle novità che andranno a modificare il normale funzionamento diciamo così di questo canale Come sapete io ho aperto questo canale cioè Jason e Crash nel lontano 2015 quindi ormai 8 anni fa È assurdo anche per me da credere perché mi sembra che sia passato così poco tempo e diciamo però che appunto nel corso di questi 8 anni ovviamente questo canale per chi mi segue dagli inizi saprà che è cambiato moltissimo Questo canale era partito con la mia voglia di portare due giochi che principalmente andavano all'epoca cioè Minecraft Pocket Edition cioè la versione per telefono e Clash of Clans E da lì infatti il nome Jasoni Crash Jasoni con la I perché Jason Crash non mi piaceva Crash formato da Lash finale da Clash of Clans e il Kr all'inizio da Minecraft quindi Jasoni Crash appunto per questo motivo Ovviamente comunque poi ho sempre continuato a mantenere questo nome perché comunque nel corso del tempo cioè un po' si è attaccato no? Alla mia personalità però diciamo siccome adesso sono in un momento in cui sto cambiando molto e sono cambiato molto soprattutto nel corso degli ultimi anni Mi pare più appropriato che una volta per tutte il nome di questo canale cambi così come anche il contenuto cioè mi spiego meglio La mia idea è quella di eliminare tutti i video di gaming che sono presenti su questo canale e lasciare solamente diciamo i video che reputo più importanti i video principali di questo canale Non vi so ancora dire con precisione quale sarà il genere di video che porterò nel senso penso che poi lo scoprirete se vorrete continuare a seguirmi anche nonostante questo annuncio Però appunto il nuovo nome che il canale prenderà sarà Jonas G Jonas questa volta non perché Jason mi faccia schifo ma perché Jonas è il mio anagramma e non so penso che suoni assolutamente meglio che Jason G che sarebbe proprio il mio nome e cognome Molto spesso il nome Jonas lo uso anche nei giochi no come nickname e quindi ho detto ma sai cosa perché no Quindi appunto ragazzi a partire da dopo la pubblicazione di questo video il canale non si chiamerà più Jasonicrash ma si chiamerà Jonas G Che altro vi posso dire? Posso anche dirvi che mi sono laureato recentemente ad Accademia Italiana che avevo fatto il video dove spiegavo la mia esperienza dopo il primo anno Che ve lo lascio qui nella i ma penso che fra poco porterò anche un altro video aggiornato dove dico quello che penso realmente adesso che sono uscito dall'Accademia Posso dire realmente appunto tutto siccome sono anche laureato eccetera non che voglia infamare la mia Accademia o roba del genere però mi pare anche doveroso dare anche una recensione dopo questi tre anni no? Ricapitolando le principali novità saranno quindi che il nome di questo canale cambierà così come anche il contenuto all'interno di questo canale che non so bene quale sarà Penso che sarà orientato più che altro a recensioni di film o comunque idee o comunque cose che mi passano per la testa o comunque argomenti di discussione Con magari ogni tanto qualche magari unboxing qua e là oppure magari anche qualche cosa estetica non lo so vedrò un attimo cosa cosa mi passerà per la mente Il mio piano sarà quello di utilizzare questo canale in modo da adesso che ho finito potermici concentrare e vedere un attimo se nel caso riuscirò ad avere dei risultati Perché una cosa che non ho mai fatto nel concreto in questi otto anni è quello di essere stato sempre molto costante con questo canale Ora il mio nuovo piano sarà quello di pubblicare almeno due video a settimana se non una settimana comunque il mio obiettivo sarebbe di due video a settimana Quindi in conclusione come vorrei che prendeste questo video vorrei che lo prendeste tipo come messaggio per dire non sono morto o almeno non ancora Prendetelo un po' come si prendono i propositi del nuovo anno cioè che si dicono tante tante cose ma poi alla fine nel concreto bisogna vedere quante se ne faranno Nel caso non riuscissi ad ottenere dei risultati non abbandonerò ovviamente il canale però probabilmente tornerò a caricare a intervalli molto irregolari Quindi sostanzialmente quando mi viene voglia Quindi niente queste ragazzi erano le ultime novità fatemi sapere anche se nel caso aveste altre domande nei commenti a cui volete che io possa rispondere Ah un'altra cosa anche invece questo è un po' off topic siccome appunto voglio fare anche il video come ho già accennato prima no sul discorso della mia accademia Se qualcuno di voi fosse interessato a venire ad Accademia Italiana e volesse avesse delle domande a cui non ho risposto nel video precedente Siate liberi di farli nei commenti che se avrò abbastanza domande le prenderò e appunto ci farò un video diciamo risposta Detto questo ragazzi grazie mille per l'attenzione che mi avete dedicato Spero che il video non sia stato troppo noioso né inutile E una volta detto questo quindi spero che ci troveremo molto presto in un nuovo video Ciao ragazzi Come sapete io ho aperto questo canale cioè jasoni crash nel lontano Quando c***o l'ho aperto 2016 Come voi sapete ragazzi ho aperto questo canale ormai nel lontano 2016 2017 2018 Aspetta sta cosa la devo controllare perché non è possibile Quando ho aperto il mio canale youtube Om no i miei video Ok il primo video del 5 marzo 2015 Quindi 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Alla faccia duca Alla faccia duca